Ciao a tutti ragazzi, sono Lorenzo, un personal trainer e istruttore qui della palestra Universo di Prato. Ho iniziato i miei studi nel 2009 dalle scienze motorie e poi subito come tecnico FIPE della Strength Academy. Ho anche tutti i brevetti per quanto riguarda la preparazione atletica negli sport di squadra e individuali. Sono anche un tecnico riconosciuto UEFA B per quanto riguarda il calcio. Mi occupo prevalentemente dell'allenamento fisico sia sulla parte atletica e quindi condizionale in quanto forza, resistenza e anche nella parte bodybuilding e pesistica qui in sala pesi e in tutta quella che riguarda la preparazione atletica, come dicevo in precedenza, degli sport di squadra e individuali. Ho lavorato anche con atleti, specie del moto e della palla a canestro e poi per quanto riguarda le squadre prevalentemente il calcio. Qui in palestra mi trovate per quanto riguarda tutti i servizi in sala, dalle schede alle via e tutti i test che possiamo fare qui in sala pesi. Sono disponibili anche per tutte le sedute di personal trainer che volete fare, per eventuali consigli per i vostri allenamenti e per i vostri obiettivi. Vi aspetto qui da noi in palestra e per qualsiasi cosa contattarci. Ciao!